Con riguardo alla battuta che ho fatto sull'essere i vannamarchi della politica, in questo li metto veramente sullo stesso piano, sia Caldoro che De Luca, mi riferisco alle promesse fatte prima che andassero al governo della regione e che continuano a fare in questa fase di campagna elettorale, si sentono veramente i botti di queste mega sparate, mi lasci passare questo termine, non si capisce come mai avendo entrambi governato questi miracoli economici che promettono oggi alla campagna non li abbiano attuati mentre governavano, se è vero che oggi la campagna dopo dieci anni tra Caldoro e De Luca è ancora gli ultimi posti d'Italia, se non ultima, in tutti gli indici socio-economici e appunto gli indici relativi ai servizi essenziali, ma questo non serve neanche raccontarlo, le persone purtroppo lo vivono sulla loro pelle, ecco perché i vannamarchi, basta, basta spot elettorale sulla pelle dei cittadini, basta annunci che mi sanno tanto di televendita della batteria di pentole pure con la bicicletta col cambio Shimano, qua c'è bisogno di persone serie che si rimbocchino le maniche e si mettano a lavorare a testa bassa e con umiltà per questa regione.